... Intanto l'Italia dei Valori interviene sul pericolo dissesto per il Comune di Napoli, servizio di Guido Pocobelli-Ragosta. Assemblea pubblica di Italia dei Valori a Napoli, il segretario nazionale Messina denuncia la norma sul dissesto dei Comuni è una vergogna, punisce i cittadini. Bisogna vedere da quando l'amministrazione si è insediata se le condizioni economiche del Comune sono migliorate o peggiorate, se sono peggiorate evidentemente ci saranno responsabilità, se sono migliorate perché stanno facendo dei tagli, si sta lavorando per migliorare la qualità dei servizi della vita, allora credo che l'amministrazione vada aiutata.